Un'indagine sulla contrapposizione tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, elite in masse, accumulo e dispersione. More or Less è il titolo della tredicesima edizione di Cortona on the Move che si apre domani alle 18 in Piazza Signorelli a Cortona. Oltre 30 gli artisti, 26 le mostre, 80 i giorni di festival. Delle mostre inedite prodotte da Cortona on the Move, delle mostre che hanno tra gli artisti più conosciuti la fotografia come questa dove mi trovo in questo momento di Larry Fink, artista americano di cui facciamo una retrospettiva unica, prodotta per noi con tanti inediti qui a Cortona, a mostre come abbiamo la stazione Cia a Camuscia sui 50 anni del rap. Il rap visto attraverso i più grandi fotografi che hanno fotografato questa musica fatta dai più demoniti, dai più poveri, mi accaspirava e veicolava i valori di una ricchezza a cui si ambiva. Io sono particolarmente felice di questa edizione perché siamo riusciti con Veronica Nicolardi, che è la direttrice, a fare un'edizione che ci dà una gioia sulle perle che abbiamo trovato, sulla fiducia che i fotografi ci hanno dato, sulle co-curatele che abbiamo portato, perché abbiamo una collaborazione sia con i nostri sponsor, sia con le istituzioni, sia con i vari premi fotografici, che veramente Cortona Move diventa il festival di fotografia più internazionale che abbiamo in Italia. Fino a domenica, 16 luglio, sarà un susseguirsi di eventi e iniziative. Offriremo quindi nei giorni di inaugurazione eventi che spaziano dalle letture portfoglio per i professionisti del settore, a eventi come un DJ set in Piazza Signorelli del grande rapper italiano Frankie Energy e talk che coinvolgeranno esperti anche del mondo della televisione. Avremo, grazie a Medici Senza Frontiere, un racconto di Diego Bianchi sulla sua esperienza sulla nave di Medici Senza Frontiere. Riccardo Stagliano e Michele Smargesti che ci aiuteranno ad approfondire quelle che sono le tematiche di More Orless affrontate quest'anno dal festival. Avremo anche uno spazio off dedicato a tutto il pubblico del festival che offrirà eventi gratuiti e vi invito a passare a ritirare una fotoricordo di voi o della vostra famiglia ritratta da alcuni dei fotografi partecipanti all'edizione del festival. Quest'anno proporremo anche delle attività per i bambini, sono delle attività molto speciali perché prevedono il coinvolgimento di Gabriele Galimberti, famoso per il suo progetto Toy Stories, che fotograferà all'interno del bookshop sotto le loggie del teatro per i giorni di inaugurazione i bambini con il loro giocattolo preferito. Le mostre sono allestite tra il centro storico, la fortezza medicea del Girifalco e la stazione C accanto alla stazione ferroviaria di Camucia Cortona. Sponsorizziamo in maniera convinta questa iniziativa perché porta risultanze molto positive in termini turistici non solo, ma quello che a noi piace è il fatto che vengono riqualificate zone e comunque data visibilità a zone del territorio a partire dalla stazione di Camucia con il primo step che il turista o chi arriverà potrà visitare per arrivare fino al centro storico e alla fortezza del Girifalco. Da non meno la via Santa Margherita, la via Cruscita di Cortona che quest'anno vede appunto la mostra lungo il proprio tragitto.